E ora è il momento di Paolo Vallesi L'inedito di Paolo Vallesi L'augurio cantato di Ornella l'ha fatto prima Puoi dire una cosa a Paolo prima dell'esibizione? Paolo, io gli ho soltanto detto che c'era una prima frase su cui lui non era sicuro siccome gli assomiglia gli ho detto tu devi lasciarla, come cantautore devi lasciare quella frase non sentite gli altri Canzone scritta da te, giusto Paolo? Sì, da me insieme all'amico Beppe Dati la musica l'ho scritta io, il testo è frutto di un'accesa discussione mi fa piacere anche salutarlo l'hai già detto a te, i tempi televisivi riducono per cui è un riassunto di una canzone ma insomma, spero che il senso venga fuori La ascolterete sicuramente e con piacere poi dopo O Roma e più Paolo Vallesi è arrivato qui, ricorderete e noi ricordavamo Vallesi nel 92 con La Forza della Vita Guardate Quando toccherai il fondo con le dita Un tratto sentirai la faccia della vita Che ti cresciderà con sé Questo era il passato, ora il presente Codice 04, vi ricordo sempre i numeri di telefono 894-222 da telefono fisso e 475-4750 per gli sms Fare conti con se stessi, perdonarsi e tornare ad innamorarsi della vita La canzone si intitola Ritrovarsi ancora In gara Oro mai più c'è Paolo Vallesi Se tornassero gli anni come libri di scuola Quante impronte ha lasciato questa piccola suola I tuoi occhi un po' pigri ma curiosi di vita Un insetto rinchiuso da una foresta infinita Se trovassi il coraggio guardando i tuoi occhi Ti diremmo è mio, già così siamo ricchi Se potessero gli angeli farmi passare La paura che ho di morire Se la prima volta che ho incontrato in te Avessi smesso di combattere Per inseguire e non sapere cosa Non sapere cosa Se ci fosse il modo per raggiungersi E perdonarsi e ritrovarsi ancora E rincontrarsi e innamorarsi ancora Con lo scoglio erato mi fa ancora paura Il consumo è più stretto ma la voce è sicura Era dura lanciarsi per lasciarsi andare Ma così che ho imparato a volare Se la prima volta che ho incontrato in te Avessi smesso di combattere Per poi cercare e non sapere cosa Non sapere cosa Se ci fosse il modo per raggiungersi E perdonarsi e ritrovarsi ancora E rincontrarsi e innamorarsi ancora Un'altra volta innamorarsi ancora 12.04 Ritrovarsi ancora l'inedito di Paolo Valesi Votate maestri, votate Ovviamente non può votare Ornella Vediamo, votate, dovete votare tutti Ha votato solo Rietta e Rettore Prendo così l'occasione per ringraziare il maestro di Amici Per i stupendi arrangiamenti di tutte queste settimane E la splendida orchestra Assolutamente Il primo di una lunga serie ma è stato veramente un piacere Grandi, grandi Allora Angela, Angela tocca a voi Lo so che dovete organizzarmi Siamo in due E lo so, se in due uno magari penso un voto Una un altro No, mi diceva che è bella Ma è una canzone Dovete confermare però non mi risulta Che ci sia stato il vostro voto Ok, adesso mi potete dire Sì, sette Perché Angela diceva 8 Ah, 8 Ah no, 8, scusate Questa è una canzone da riascoltare Cioè a primo acchitto Bisogna scoprirla un po' di più Comunque è molto bella Lui è stato molto bravo Una bella canzone 8 Finalmente canzoni italiane Grazie Marcella A me è piaciuta A me Paolo piace A parte che è un ragazzo carinissimo Io vorrei anche ringraziarlo Per la settimana scorsa Quando mi ha visto andare in camerino Molto giù Perché mi sembrava che tutti ce l'avessero con me Non lo so Ero un pochino triste E lui è venuto lì in camerino E mi ha detto Io sono con te E mi ha detto Metto delle parole molto carine Perché mi era uscita in trasmissione L'unica frase poco carina L'avevo avuto proprio con te Che in realtà ti sei dimostrata Sempre una persona leale Competente E anche carina con tutti Fa parte credo del gioco Sì, sì Abbiamo scherzato e giocato con Amadeus E comunque a me è piaciuta questa canzone A me piaci tu come cantautore Ti ho dato 9 9 Toto Io non ho amato questa canzone Perché? Perché C'è un inciso Sempre con la stessa nota Non c'è C'è poco spazio Di melodia E all'inizio assomiglia A un'altra canzone Che non so che cosa Assomiglia a una canzone Che ho già sentito Ornella Cazzo Allora mi devi capire Sentivo la mancanza E tu pensi All'ultimo momento Non l'ha detto Quanto? 8 8 8 8 L'ha detto Picasso I geni copiano Ok Red Questo brano ha un pregio e un difetto Ok Ha una somiglianza nella strofa E ne abbiamo anche già parlato Sì sì all'inizio nella strofa A quale scusate? Ha un pezzo di Arisa Ha un pezzo di? Arisa Di Arisa Sì E ha un inciso invece molto forte Per cui io ti ho dato 8 Per fare un balance Tra una cosa e l'altra Ok Orieta E io l'ho dato invece Un bel 9 9 Perché mi è piaciuto Bravo Vallesi Fausto Allora Lui L'ha cantata benissimo C'è una voce bellissima E quindi Gli ho dato 9 Ok Se fosse stato per il brano Gli avrei dato 8 Però tu ti meriti 9 Ok Rettore Grazie Fausto Abbiamo la canzone Validetti questi toscani Validetti toscani Validetti toscani Dieci 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 Se non l'avessi te Non lo so qual è il pezzo di Arisa Però a me non mi ha ricordato niente Mi ha ricordato solo Paolo Vallesi Ti ringrazio della terra Sei stata meravigliosa Come tutti Il brano dura 1,50 Quello da 3 minuti Sì Lo ascolterete per intero nel cd O mi auguro nelle radio Bene Totale Totale per Paolo Vallesi Compresa l'esibizione precedente Con Orella Vanoni 124 124 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti